Sono già iniziati e si concluderanno fra circa un anno i lavori all'Istituto Comprensivo Monte Ortigale di Asiago. La scuola vecchia di 40 anni ha bisogno di interventi di ammodernamento. Verranno sistemati infatti il riscaldamento e l'impianto di illuminazione, oltre alla palestra e al tetto. L'operazione si concluderà dopo la chiusura delle scuole durante la prossima estate per evitare troppi disagi agli studenti. Il costo complessivo degli interventi sarà di oltre mezzo milione di euro.